Oggi a punto d'incontro parliamo di nutrizione, ma parliamo di nutrizione per animali, per i nostri amici a quattro zampe e mi riferisco a cani e gatti. Lo facciamo con un ospite in studio con noi che vi presento subito Chiara Perrone che è consulente nutrizionale. Intanto benvenuta e grazie di essere nei nostri studi. Grazie mille a voi per questa opportunità, per far conoscere quella che è una nuova professione. Infatti strana, poco conosciuta. Sì, una professione appunto tutta indirizzata a quella che è la nutrizione per i cani e gatti, una nutrizione quindi personalizzata perché ogni cane e ogni gatto è a sé e ha esigenze nutrizionali diverse anche all'interno, ad esempio, della stessa razza. Come un uomo, ovviamente. Esatto, perché se noi pensiamo quindi a un uomo sportivo, che quindi magari fa atletica piuttosto che un altro sport, avrà sicuramente un'alimentazione diversa rispetto a un uomo che fa un altro tipo di attività oppure che non fa attività. Così all'interno delle stesse razze più conosciute, come ad esempio il pastore tedesco, possiamo avere un pastore tedesco da lavoro, cosiddetto da lavoro, che quindi magari è a servizio nell'esercito piuttosto che nei carabinieri e quindi ha delle giornate diverse rispetto a un pastore tedesco classico magari da casa che se ne sta tranquillo in giardino oppure sul divano. Le abitudini quotidiane. Le abitudini quotidiane sono diverse e quindi loro fabbisogni, ad esempio energetici, variano. Senti, allora parlaci un attimo della formazione che è necessaria per questo lavoro. Intanto, beh, necessità di un grande studio, ma diciamolo, non sei un veterinario. No, infatti io non ho studiato in università, la classica università quindi di scienze veterinarie, però ho fatto diversi corsi di formazione mirati, specifici, proprio sulla nutrizione. Ho iniziato perché è una grande passione che ho da sempre, ecco, da quando ho memoria ho sempre avuto la passione per i cani e gatti. Sono cresciuta quindi con cani, ricordo appunto i miei primi cani da bambina, i primi giochi con i cani, le prime, diciamo, passeggiate con loro, i primi giochi dove cercavo di insegnare loro qualcosa, ad esempio seduto, piuttosto che il terra, o a starmi vicino, quindi a camminare a fianco a me, oppure i classici proprio giochi con la palla, così insieme. Da lì, giorno dopo giorno, è cresciuta questa passione. Ho iniziato a chiedere a mia mamma di comprarmi dei libri che riguardassero appunto i cani e i gatti. E da lì è andata avanti, ho iniziato anche a seguire dei corsi di educazione di base per i cani e quindi ho iniziato a capire che si poteva interagire bene con loro e ho visto che avevano bisogni differenti e ho iniziato quindi a guardarmi un po' intorno e a cercare di studiare in maniera più profondita quelle che sono le loro esigenze. Da lì ho lavorato per negozi di articoli per animali, sono stata a lavorare ad Albengo, ho lavorato in altri negozi qua a Imperia e alla fine ho frequentato corsi di formazione con le più importanti, diciamo, case produttrici di alimenti per cani e gatti. Perché c'è uno studio importante dietro a questo, cioè non... Esatto. Parlando del fisico, di animali, di alimenti, insomma dietro bisogna avere tante nozioni. Tante nozioni, nozioni approfondite e diverse ovviamente per andare a soddisfare quelle che sono le reali esigenze di ogni cane e ogni gatto. Dopo infatti ho frequentato altri corsi sempre più approfonditi, l'ultimo è stato a giugno di quest'anno, quindi del 2015, sono stata in Piemonte e ho studiato sui materiali del professor Pierpaolo Mussa che è il vicepreside all'Università Torino di Scienze Veterinarie e si dedica proprio da molti anni solo esclusivamente all'alimentazione, non solo dagli animali da reddito che vengono studiati spesso in università, ma anche agli animali d'affezione. Devo dire una soddisfazione personale anche perché hai fatto della tua passione un lavoro, tu che sembravi indirizzata, mi raccontavi poco fa, verso una professione di tutt'altro tipo. Esatto, all'inizio mi sono laureata in scienze giuridiche, poi ho fatto una specializzazione proprio in laurea in giurisprudenza, diciamo come quella classica di una volta, un anno di scuola forense, però non era la mia strada, non faceva per me e quindi alla fine sono riuscita a fare quello che è della mia passione un lavoro. Non è semplice, nel senso che ovviamente un lavoro bisogna che sia un lavoro quindi anche economicamente retribuito per poterci vivere, quindi che dia soddisfazione non solo proprio come lavoro in sé, perché io adoro lavorare con gli animali, ma anche che abbia la possibilità di avere quindi un riscontro economico, perché come tutti i lavori deve essere sostenibile. Tu lavori sia a contatto con i veterinari, ma anche a contatto diretto con i proprietari degli animali. Esatto, lavoro quindi sia con una collaborazione con i veterinari, gli studi veterinari della zona ovviamente in cui abito, quindi ad esempio Alassio, Andorra, Diano Marina, Imperia, Sanremo e sia a contatto proprio con le persone. Mi piace molto poter andare a casa delle persone, ad esempio, e vedere come vive ad esempio il gatto nella casa o il cane, per capire quelle che sono poi veramente le sue esigenze nutrizionali. Quindi devi capire anche la storia dell'animale, farei molte domande per capire le sue abitudini. Diciamo che il primo incontro dura circa un'ora, perché bisogna fare diverse domande per capire veramente quello che è l'alimento migliore per quel singolo cane. Quindi si va a vedere l'età, ad esempio, che influisce. Ovviamente un cucciolo in crescita ha un bisogno nutrizionale differente rispetto a un cane adulto, ma anche rispetto ad esempio a un cane già anziano. Oppure, non solo questo, se la sua cuccia è fuori, quindi in giardino, quindi soggetto anche a sbalzi di temperatura diversi tra il giorno e la notte, piuttosto che un cane che dorme quindi in casa, dove anche in inverno comunque la temperatura, data dai termosifoni, ad esempio è costante. Oppure se si tratta di una cagna, quindi una femmina, che in quel momento magari è in gravidanza, oppure ha già partorito in allatazione. I suoi fabbisogni nutrizionali cambiano, quindi magari nei primi 40 giorni saranno alimentazione normale, gli ultimi 20 giorni, ad esempio di gravidanza, bisognerà aumentare quelle che sono le dosi giornaliere di cibo, sia che sia un alimento umido, sia che sia un alimento secco. Altri fattori che influiscono, quindi come abbiamo detto l'età, il fattore ambientale, se magari essere realizzata o incastrato, cane o gatto, se fa dell'attività, ad esempio se è un cane da lavoro, che quindi fa, oppure semplicemente va a correre con il proprietario. Queste sono caratteristiche, diciamo, da tenere in considerazione, ma anche la razza. Se è un cane di razza, è ovvio che un chihuahua, che è il cane più piccolo al mondo, ha uno scheletro, un'alimentazione e una conformazione diversa rispetto ad esempio un alano, che è uno tra i cani più grandi invece al mondo. Quindi hanno anche bisogno di, non so, proteine piuttosto che carboidrati, ma in maniera diversa. In maniera diversa. Ad esempio, un cane magari in piena attività ha un bisogno di proteine nobili molto alto, mentre un cane magari già anziano ha un bisogno di proteine un po' più basso, ma così come anche di grassi, i grassi che avrà bisogno magari un cucciolo, piuttosto che una mamma in latazione, sono diversi sicuramente rispetto a quelli di un cane adulto, già svezzato, ecco, che ha già superato quello che è la sua crescita. Anche perché se pensiamo ad esempio a un cucciolo di uomo, quindi a un neonato, da quando nasce a quando arriva ai 18-20 anni, quindi che cresce, passa diverse fasi e passano tanti anni. Mentre un cane da quando nasce a quando, diciamo, cresce diventa adulto, generalmente passa un anno, due anni. Quindi hanno anche una crescita ai cani dei tempi diversi, lo scheletro cresce in maniera diversa. Ad esempio, in un cane di piccole dimensioni, che intorno ai 7-8 mesi è già più o meno come sarà poi d'adulto, piuttosto che pensare, dico un alano perché è forse uno dei più conosciuti nelle razze grandi, come a 6-7 mesi ha ancora tanto da crescere. Si dice che ogni anno valga 7, io non credo che sia così, però, insomma... Sì, sì, non è proprio così. Però rende l'idea. Però può rendere l'idea, esattamente. E anche un cane malato necessita di una dieta particolare? Bisogna vedere, bisogna vedere che tipo di patologia ha, perché esistono tanti tipi di patologie che possono essere renali, urinarie, cardiache. Bisogna vedere, o ad esempio, un cane con un'obesità, quindi una patologia causata magari da diversi fattori, tra questo ovviamente influisce notevolmente l'alimentazione. Quindi si andrà a lavorare ovviamente in base alla patologia che ha colpito l'animale. Però fa bisogni energetici sicuramente o comunque calorici diversi durante la giornata rispetto a un altro cane sano. Quindi queste sono tutte domande che io chiedo appunto al proprietario, o chi gestisce l'animale, per andare a vedere quella che è l'alimentazione personalizzata proprio. Quindi specifica per quel singolo animale. E a livello di gusto, a un cane piace variare o no? Diciamo così, il cane è un animale molto abitudinario, quindi potrebbe mangiare anche lo stesso cibo tutta la vita. Non è come noi, perché non ha le papille gustative come noi, sente gli odori in maniera diversa da noi, non ha il fatto più sviluppato, però ha il gusto diverso. Quindi potrebbe un buon cibo di qualità completo, sia che sia un cibo cucinato, sia che sia ad esempio la barf che adesso va di moda, quindi a crudo, piuttosto che le crocchette classiche o le classiche anche lattine. Basta che sia un cibo di qualità è completo, potrebbe mangiarlo sempre, poi per tutta la vita, andando magari a vedere quelle che sono le razioni giornaliere indicative. Però ci sono effettivamente cani che magari preferiscono un cibo più deciso, che può essere dato da una proteina di manzo o di aniello, piuttosto che il pesce. Anche lì, più che andare a far decidere il cane, sarebbe meglio capire se al cane farebbe meglio, a livello funzionale, dare ad esempio il pesce che contiene più omega 3 e omega 6, piuttosto che un'altra proteina. Poi anche lì, oggigiorno sempre di più, si sono sviluppate anche quelle che sono delle intolleranze o addirittura delle allergie alimentari. Anche tra di loro. Anche tra di loro. Quindi ci sono cani ad esempio molto sensibili alla proteina del pollo. Ma questo non tanto perché il pollo faccia male in sé, ma purtroppo negli allevamenti intensivi tutti i polli sono allevati tutti insieme, vicini e ad esempio si usa da antibiotici o altri comunque agenti chimici che racchiusi in poca carne creano poi a lungo andare delle intolleranze. E' come se ne accorge? Cioè l'animale sta male? Sì, sì sì sì. Nei casi diciamo più leggeri si possono notare degli arrossamenti all'interno ad esempio delle cosce, all'interno delle orecchie, ma la prima cosa più importante, come consiglio che posso dare, che può essere visibile a tutti, controllate le feci proprio dell'animale perché le feci di un animale sano sono formate, sono compatte, quindi si possono raccogliere diciamo facilmente. Se invece le feci sono sempre diciamo a lungo andare, diciamo molli, non va bene, c'è qualche problema. C'è qualcosa. C'è qualcosa che non va. La cosa più facile e più pratica e meno costosa è sicuramente quella di andare a esclusione. Quindi se io sto dando al mio cane un alimento che può essere umido o secco in crocchetta al pollo, ho una pappa, preparo io il pollo anche cucinato e il cane continuo a avere questo problema nelle feci, se io cambio alimentazione e non ce l'ha più, allora escludiamo e cambiamo alimentazione. Senti, il dolce non si dà ai carri. No, il dolce non si dà perché non ha appunto un sistema digerente, un tratto diciamo all'intestino molto diverso dal nostro, lo stomaco anche, non ha bisogno appunto, anche noi, oggigiorno mangiamo tantissimi zuccheri rispetto al passato, quindi abbiamo una scelta a livello commerciale, anche semplicemente entrando in un negozio, in un supermercato, di zuccheri che è altissima, quindi biscotti ce n'è un'infinità, abbiamo a disposizione il gelato tutto l'anno, abbiamo a disposizione una serie di cibi già preconfezionati all'interno dei quali ci sono gli zuccheri, quindi anche per noi ultimamente si riscontrano dei problemi in questo senso. Il cane non ha questo bisogno di zuccheri e sbagliamo, quindi gli facciamo un torto quando magari al mattino facciamo colazione, gli lasciamo cadere un biscotto, perché a lungo andare, capita una volta e non succede nulla, ma a lungo andare gli fa male, infatti anche i cani possono sviluppare malattie come il diabete, ad esempio, oppure delle problemi, diciamo, dentali in bocca, che sono quindi il tartaro piuttosto che i cari e altri problemi, la placca, eccetera, che vanno quindi a aumentare se diamo dei cibi dolci. Cani e gatti cambiano tanto le cose? Sì, cambiano molto, perché il gatto è un animale che lo definiamo carnivoro, un carnivoro per eccellenza. Se noi immaginiamo un gatto, lo immaginiamo appunto magari che va a caccia, prende il topolino e mangia il topolino, piuttosto che l'uccellino, quindi è un cacciatore, anche i gatti di casa magari amano giocare la caccia, quindi una pallina piuttosto che un topolino finto di peluche, oppure con quelle bacchettine con attaccato un topolino lo facciamo giocare fin da cucciolo, quindi è un cacciatore ed è un carnivoro e fa tanti pasti anche piccolini durante la giornata. Anche in natura si è osservato che un gatto può fare tanti pasti durante la giornata piccolini. Un cane tendenzialmente no, tendenzialmente fa meno pasti, più abbondanti e poi è un semi carnivoro, non è proprio un carnivoro stretto come il gatto, anche perché hanno una storia differente. Il gatto deriva dai, diciamo, dei animali, da gatti, diciamo così, del deserto, quindi anche il fabbisogno di acqua è diverso rispetto al cane, beve meno ad esempio. Per questo è giusto integrare, a mio avviso, sia un'alimentazione secca con un'alimentazione umida per dargli la giusta integrazione anche di acqua. Perché possa almeno assumere i liquidi anche mangiando? Sì, perché nell'umido c'è la maggior percentuale di acqua rispetto al secco, così lo aiutiamo a rimanere ben idratato. Mentre il cane è un'alimentazione più varia. Poi anche in natura, un cane ad esempio va, prende una lepre, mangia, mangiando non mangia, non sceglie soltanto magari il muscolo, ma mangia tutta la parte dell'animale e l'animale, ad esempio la lepre, ha mangiato anche l'erba, quindi anche dei vegetali. Quindi hanno un'alimentazione comunque diversa. Tendenzialmente è giusto dargli il cibo a temperatura ambiente, anche perché appunto quando cacciano mangiano a temperatura ambiente. Quello che è, certo. Sì, un animale a sangue caldo, quindi a temperatura comunque ambiente. Quindi è sbagliato ad esempio tenere il cibo in frigo e servirglielo subito a freddo. Magari si può tirare fuori un po' prima dal frigo e darlo a temperatura ambiente. Questo sia in estate che in inverno. Quindi nei tempi e nei modi si differenzia. Per esempio il cane quante volte mangia? Anche lì è una bella domanda perché dipende. Allora, quando è un cucciolino che quindi deve essere svezzato, ha bisogno di fare più pasti durante la giornata. Tre, quattro pasti suddivisi durante l'arco della giornata. Quindi parecchi. Parecchi, sì. Poi man mano che cresce si può passare a tre pasti, poi a due pasti. Una volta si usava poi arrivare a un unico pasto. Tendenzialmente non lo consiglio, a meno che non ci siano proprio problemi di tempo, che non si può suddividere quindi la dose giornaliera in due pasti. Non lo consiglio perché, soprattutto nei cani di taglia grande, i cani hanno uno stomaco molto elastico, molto grande. Mangiandone una volta sola, buffandosi, poi magari sono contenti perché ci vedono a casa e giocano. Si potrebbe incorrere in quella che viene chiamata comunemente torsione dello stomaco. Quindi si gira proprio e se non si interviene nell'arco di due ore, purtroppo può essere anche mortale. Quindi io consiglio sempre comunque i due pasti. Almeno tenere due pasti. Uno magari al mattino e uno alla sera, suddividendo quindi la razione indicativa giornaliera. Ad esempio, se parliamo in modo semplice di crocchette, se per quel cane la dose sono di 500 grammi al giorno, si può fare 250 al mattino e 250 alla sera, ad esempio. Poi bisogna anche sempre tener conto che se lo porto magari a un corso di educazione, magari non gli do da mangiare prima che poi appesantito durante la lezione. Come uno sportivo. Come uno sportivo, esatto. Mentre il gatto, a differenza del cane, possiamo lasciare a disposizione delle crocchette, quindi un alimento secco che attrae meno formiche o mosche o altri animaletti e il gatto andrà a regolarsi lui quando ha fame a mangiarle. Facessimo questo col cane, con la maggior parte dei cani incorreremo nel rischio che le mangia tutte subito. Si abbuffa. Si abbuffa subito. E poi al gatto dare poco, quindi parliamo anche magari di 40-50 grammi al mattino, magari altri pochi grammi a pranzo e poi ancora qualcosina la sera. Quindi fargli più porzioni. È inutile magari comprare una lattina grande, versargiela tutta lì, perché poi se prende un po' di odore non la mangia più. O comunque non vale anche bene perché possono andarci sopra appunto le mosche, ad esempio. Poi non è più un cibo sano, ecco, se possono svilupparsi larve e altre problematiche, ecco, possono insorgere. Sempre bene l'igiene, prima cosa, sia per il cane che il gatto, quindi tenere ben pulito dove mangiano, lavare le ciotole e cambiare anche tutti i giorni l'acqua. Come fosse una persona, giustamente. Giusto, esatto. Ci hai detto cose molto interessanti, molto curiose. Se qualche telespettatore volesse mettersi in contatto con te per avere qualche consiglio, come può fare? Può telefonarmi, quindi direttamente chiamarmi, oppure può andare sulla mia pagina Facebook, una pagina dedicata appunto ai nostri amici a quattro zampe, si chiama Nutrizione personalizzata per cani e gatti. Si riconosce perché ci sono io nella foto, quindi mi si vede insieme al mio cane. Giustamente. Sono io. E c'è il tuo numero nella pagina Facebook. E c'è anche il mio numero, comunque il mio numero di telefono è 329-9358-115. Ricordiamo la pagina? Come si chiama? Nutrizione personalizzata per cani e gatti. Bene. Io ti ringrazio per essere stata con noi. Abbiamo scoperto, insomma, un settore nuovo che non conoscevamo. Molto, come dicevo, interessante e curioso. Avremo modo di rivederci. Grazie e salutaci gli animali a quattro zampe che incontri. Grazie mille, buona giornata. Grazie a tutti voi per il cordiale ascolto. Appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.